E ripartiamo dal volley, giornata di presentazione ufficiale per Ioandi Leal, uno dei grandi acquisti della nuova Modena Volley, lo abbiamo intervistato, sentite. Ioandi, ben arrivato a Modena, tanti anni d'avversario, tante volte qui al Palapanini, adesso con la maglia giallo-blu addosso, ti chiedo com'è nata la scelta di arrivare qui a Modena? È una società che voleva giocare da un tempo già, quindi in questo anno si è dato la possibilità, aspetto di dimostrare tutto lo che veniva facendo durante questi anni, vado a giocare con un grande giocatore, quindi possiamo fare una bella stazione. È una guerra ambitiosa, anche la società è ambitiosa, questo è buono, perché ha investito tanti in questo giocatore e sempre giocare con un giocatore buono è facile, diciamo. Però l'importante è che noi riuschiamo a giocare insieme e fare una bella adattazione. Si può pronunciare la parola scudetto o per il momento è vietata? No, credo che sono quattro team i favoriti della scudetto, quindi sono uno giocatore che deve lavorare tanti per vincere il campionato italiano, già che è un campionato più forte del mondo, quindi aspettiamo che succeda durante la stazione.